Buongiorno da Arpal con le previsioni meteo per la regione Liguria, condizioni di tempo stabile soleggiato per l'intero fine settimana, mare poco mosso, quasi calmo e temperature stazionarie con valori sopra la media del periodo. Ecco il dettaglio. Oggi venerdì 29 settembre una robusta struttura anticiclonica si consolida sul Mediterraneo centrale garantendo per i prossimi giorni condizioni di stabilità sulla regione, giornata con cielo sereno e temperature sopra la media del periodo. 20 deboli variabili o in locale regime di brezza, mare poco mosso, quasi calmo sotto costa sul settore centrale, temperature pressoché stazionarie massime sulla costa tra 26 e 31 gradi nelle zone interne tra 25 e 28 gradi. Domani sabato 30 settembre giornata stabile e soleggiata disturbata da qualche temporaneo addensamento o qualche transito di nubi alte. 20 deboli variabili a regime di brezza sulle coste, mare inizialmente poco mosso in calo a quasi calmo ovunque, temperature minime lungo la costa tra 18 e 21 gradi nelle zone interne tra 11 e 14 gradi, massime in lieve calo sulla costa tra 25 e 30 gradi nelle zone interne tra 25 e 28 gradi. Dopodomani domenica 1 ottobre giornata stabile e soleggiata con qualche locale o temporaneo addensamento nelle zone interne, venti in rinforzo da nord su centro ponente, mare mosso su parte occidentale per venti da nord, poco mosso stirato sotto costa, temperature minime in aumento lungo la costa tra 19 e 22 gradi nelle zone interne tra 11 e 14 gradi, massime stazionari e un lieve aumento lungo la costa tra 26 e 30 gradi nelle zone interne tra 25 e 28 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.liguria.it, sui nostri social, sul canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!